Salve a tutti Ciao a tutti ragazzi Io sono Super Max E lui è Fortess con la forma di Zeus Ragazzi Mi ha parlato Zeus Mi ha detto che non hai saputo parlare la mia forma Tutto il tempo è tipo... Tipo che avremmo voluto essere in base alla fotocamera Allora ragazzi ora vi spiego Il mio potere è caldo, è freddo, è sangue freddo Mentre il suo è molto potente Ma chi sarà La forma più forte La forma di Super Max O la forma di Zeus Lo staremo a vedere Infatti in questa sfida Noi ci confronteremo Chi sarà il migliore Nel combattimento Io o lui Ciao ragazzi ci sono in posizione E via con il combattimento Ovviamente ragazzi sarà Un combattimento E non Alla forma Perché ci faremo sempre di male Per questo che Non sarò un combattimento A tutta forma Ma Sarò un combattimento a mezza forma Via! Ricordati che anche la mia forma Tu sarai Zeus Unile Ma ricordo che li hai L'ultra istinto Di como E' come i miei biglietti E io potrei fare così Strora E io E io E io E io Imposizione E io Ah, ah! Ah, ci sono voi! Non so, non so! Ah! 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 Ah, la folla, la Supermax, l'ho alzò, l'ho fatta per tanto tempo, lo può fallire, ah, con una folla di un lino. Oh, mio Dio, non mi ho detto che voglio vedere questa faccia, mi sento il punto di vedere troppo. La forma di senso, ma se una godenza, ora come vedi, caderà. Vedendo ora tutta la mia aura su di me, sono pronto a morire, eppure io non mi riusci a me, ma ora su di me! Non mi muoverò. Non mi muoverò. Ah, la pelle è l'ospedale, è paralizzata! ok, tu non è caduta il mio potere, due di tre, questo qua non è una cosa semplice, e la forma interna, centrosi e due di conti, conviene a usare il corpo, tu sarai forte nel momento di pezzisci e non è una cosa che non è stendere nelle cinque... Anche se ti impegnerai, non saremmo il prezzo di ciò che vuole fare. E lo so, mi sembra una forza strana. La gente la sente di tu su qualcosa che ci sta rientrando male. Ultima volta! No, no, sta succedendo qualcosa! Ma cos'è? No, basta che lo saurì dovrà tenerti a Fortes! Mi sento arrabbiata! Non resisto! Ragazzi! Siamo diventando! Eh, ecco infatti. Lui mi sa che l'energia non sa più entendere male. Io sono un ragazzo bravo a controllare lei. Stai impazzendo, Fortes! Fortes! Perché sono diventati strani? Siamo forti. Come ti è forti? Aspetta. Lugano altro! Aspetta! Ok! Ragazzi! Ragazzi! Mi sa che la forma di Zeus... E io non la forma di... La forma di... Guarda! Bello! Sarà! Mi ha fatto perdere una cosa! Quindi ragazzi! Quindi ragazzi! Ragazzi! L'abbiamo sbloccato! Da forma di quarto livello! Ragazzi! L'abbiamo sbloccato! Da forma di quarto livello! No! Aspetta! No! 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 Secondo me! Sono stentissimo! Torniamolo qua! Ah! 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 Ok ragazzi! Siamo tornando! Aspetta! Willman! E' ancora una forma di nera! Ah! 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 Cosa c'è? Non ho capito con la forma nera! Ehi, che maniera! Proviamo quello che hanno organizzato prima gli scienziati! Non mi dico? La supermax! La forma di Zeus! Aia! Aspetta, proviamo solo con la forma di quarto di vento! Ora! Ragazzi! Ma perché sento la forma di quattro di livello ma non riesco a trasformarmi? Mi sento paralizzato tipo nei piedi! No! Aspettate, mi concentro meglio! Se ci riesco, date una mano anche tu a concentrarti! Aaaaah! Voi! No, lo sono scaricato! No! Si, sono andato a salvo aria! va bene ragazzi ciao